Grazie a tutti i nostri studenti che hanno aderito a questa iniziativa, ringrazio il nostro professor Mosconi, che vedo ferosissimo i nostri studenti del programma delle emozioni e marketing, ringrazio il professor Fabri di IBD perché quest'anno abbiamo anche la mia classe del studio marketing per l'ossima testa di Bello che è col professor Liero che è portato gli studenti di marketing marketing, quindi tutti accomunati dal fatto che stiamo cercando di sviluppare una serie di momenti di presentazione con testimoni che a partire da studi di economia hanno intrapreso carriere particolarmente interessanti, significative anche un pochino di nicchia sulle quali si sa poco, ma magari si sogna un po' come questo nostro che facciamo oggi dedicato a capire che cosa significa prendere la carriera di uomo. ho il piacere di avere voi oggi il nostro ospite che mando il racconto e con grande piacere lo dico di essere liberato in economia in questa università, quindi abbiamo proprio la testimonianza di una professione che mi ha preso la carriera a partire da studi di economia e ci racconterà di un pochino di cosa si divina questa carriera e anche quali sono i passi concreti per chi può effettivamente cimentarsi come esatto la professione e la preparazione a questa carriera. lascio subito la parola nostra. Grazie Cristina, grazie per il momento, grazie anche ai professori che hanno accettato di ospitare noi oggi. e mi fa particolarmente piacere, la professoressa Tugliani, io ero un compagno non solo dell'università ma anche di te, di te, di liceo, l'occasione di tornare a parte alla mia città, dove noi Tugliani non sono venuto spesso e poi anche un po' l'emozione di stare da questa parte della barricata che ancora mi considero più vicino, a volte state nei banchi, la professoressa Tugliani ormai è una veterana dell'insegnamento, quindi per lei è assolutamente naturale stare dietro la carriera. Allora, la presentatura di oggi è finalizzata a dare un po' quello che è un'idea di cosa fa un diplomatico in epoca così dire e moderna. Innanzitutto vorrei sapere quanti di voi hanno preso in considerazione la carriera diplomatica o in organismi internazionali? Parlo, 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 pochini, pochini, non se dopo questa presentazione, però cambia l'idea, agli indecisi oppure fanno abbandonare definitivamente la prospettiva di una carriera in questo settore ai pochi con ragione. Allora, la carriera diplomatica ha un mestiere antico, normalmente nel sentire comune prevale un po' allo stereotipo del diplomatico come un funzionario di un cessato che viene mandato in giro per il mondo non si sa bene a fare cosa, a presenziare, a cerimonie, a stringere Germania, a partecipare a cocktail e altre attività, eccetera. In realtà la parte sua dire istituzionale è senz'altro presente, una parte importante, vi spiegherò anche perché nel lavoro di un diplomatico, ma quello che fa un diplomatico soprattutto all'estero è molto, molto difficile. Io sono creato in terriere diplomatica nel 1996, quindi su 22 anni quasi, ne ho passate di 12 all'estero e una decina a Roma. La carriera infatti prevede che sia al termino per essi, incarichi all'estero e massimo due consecutivi e poi ritorno a Roma per un certo numero di anni. Questa è ovviamente una logica che adottano più o meno tutti i paesi per evitare che poi le persone, se stessero esclusivamente all'estero, il diplomatico poi perderebbe contatto con la realtà italiana e quindi perderebbe anche la capacità di leggere gli avvenimenti che succedono in un determinato paese, in un determinato contesto con un'ottica italiana. Perché noi non dobbiamo dimenticarci che comunque il diplomatico rappresenta l'Italia e deve fare interessi dell'Italia, degli italiani, delle imprese italiane all'estero. La carriera diplomatica quindi è fatta di tanti aspetti. Ho provato un po' a riassumere, ho messo anche qualche foto, tra l'altro dalla mia esperienza personale, per vedere che non c'è un po' a riassumere. Allora, le relazioni internazionali, intanto cosa fa un diplomatico? Ah, brevissimo, sono entrato nel 96, nel 99, sono stato tre anni a Roma dove ho servito un cerimoniale diplomatico, che è una parte insomma un po' particolare del servizio diplomatico, è l'ufficio che organizza le visite dei capi di Stato, dei governo, degli degli esteri uomini. Non è di molta sostanza, ma serve un po' per capire il circo, tra virgolette, che si muove intorno a queste visite internazionali, dove non si decide nulla, ma serve per fare la foto con, oggi abbiamo visto i due presidenti coreani che si stringono la mano, quella passa la storia. Dietro ovviamente c'è tutto il lavoro io, i funzionari delle diplomazie, le imprese sottolineali, però il momento che fissa un determinato momento politico è la foto durante la visita. Nel 99 sono andato in Nigeria, all'epoca ero ancora giovane, pieno di entusiasmo, per cui avevo deciso per la prima sede africana che fosse capitata sarebbe stata la mia, per caso appunto che fosse la Nigeria, ho fatto 3 anni di Nigeria, seguiti da 3 anni a Buenos Aires, come console in Italia, rientro da Roma, dove sono stato 4 anni un ufficio affari politici che mi sono occupato di Nato, e dopo di che sono partito per il Brasile, sono stato quasi fatto un anno, ho fatto consigliere a Brasile, alla basciata, consigliere affari sociali e giuridici, quindi ho fatto il coordinamento dei consolati italiani che sono in Brasile e ho seguito le vicende giuridiche dell'Evacama. Dopo il Brasile sono stato nominato a basciatore in Zambia, un piccolo paese abbastanza marginale per i nostri interessi, ma ha ottima sede per un giorno diplomatico per iniziare a fare l'esperienza dal campo del solito. Allora cerco di riassumere velocemente, perché poi magari volete lasciare anche spazio un po' alle domande, i compiti del diplomatico all'estero. Ovviamente il compito del diplomatico all'estero è quello di seguire l'evoluzione politica, economica e sociale del paese di accredita. Qualcuno di voi potrebbe dire, ah, ma nel dare un'idea della comunicazione globale, si sa tutto di tutti, cosa serve mandare una persona sul posto quando da qualsiasi compito e ha accesso a tutte le notizie possibili immaginabili. In realtà sì, così è vero, l'accesso alla notizia si ha, si sa cosa succede quasi in tempo reale in ogni angolo del mondo. Il compito del diplomatico è quello che deve interpretare i fatti, li deve interpretare e li può interpretare correttamente, cioè non deve essere un cronista diplomatico che porta appunto fatti di cronaca oppure si è dimesso il ministro. Questa non è una notizia che interessa il ministero. Il po' diplomatico deve dare, riferire a Roma, in questo caso al ministero degli esteri, la propria interpretazione, la propria analisi, possibilmente una previsione di quelli che possono essere gli sviluppi del paese, in tutto collegato con quelli che sono gli interessi dell'Italia, in tutto il paese. E per fare questo è importante anche che un diplomatico che viene mandato all'estero si immerga nella vita del paese. Ovviamente un diplomatico che se ne sta chiuso in ufficio o fermenta ristretti circoli non è un buono diplomatico perché comunque è in generale il paese, conosce le persone, pare pare con i connazionali che sono di pagare da tanti anni, insomma tutte quelle attività che servono per capire il paese in cui si è stato diventato il più velocemente possibile. Le relazioni intervento istituzionali poi pericolano i rapporti bilaterali, rapporti bilaterali per l'Italia e per il paese, la firma, gli accordi, l'organizzazione e le visite, sono una pluralità, possono essere città, ne so, accordi e borse di studi, accordi dell'ant'università, sono presenti e tanti, ci sono visite, incontri e riunioni, e tutto accordi, questioni giuridiche internazionali, operazione giudiziaria, ci sono italiani che finiscono nei guai, perché comunque vanno in qualche modo assistiti, accogli ad esempio di rimpattere oppure sono tantissime le attività che vengono fatte, ovviamente vengono per risposta al Ministero della Roma e in titola parte con la fascia 2 che è poi chiamato a rapportarsi con le autorità locali. Le relazioni bilaterali comprendono anche, appunto, una parte, per così dire, che l'ortocollare e poi il diplomatico deve partecipare a cerimonie del paese, la festa nazionale e varie, la deposizione delle corone di fiore accaduti a questo, ci sono tante manifestazioni che vengono fatte dove, per cortesia istituzionale, il diplomatico, per esempio, è chiamato a partecipare, insomma, sono molto divertiti ma anche, insomma, fa parte del lavoro, ci siamo pagati anche per ammogliarci sotto il sole per assistere a una sfilata, magari, del paese in cui siamo posti. Ecco, qui, ad esempio, ho messo le tre bandiere, i rapporti istituzionali, i rapporti istituzionali che ne vedono anche che l'ambasciatore, il diplomatico, in questo caso l'ambasciatore, ad esempio, è la celebrazione della festa nazionale, deve mettere tutte le bandiere, deve fare discorso, fare prentesi alla salute dei rispettivi capi di Stato, intrattenere gli ospiti e sono solo formalità che, però, vuol dire, hanno la loro importanza come forma anche di rispetto del paese che ci può ascoltare. Ecco, questa è l'occasione, questo era il figlio del Presidente durante la festa nazionale italiana, quando arrivano i militari stagliere, fanno i soldati, bisogna scambiare due parole, e, diciamo, la parte protocollale, che comunque ha solde, insomma, abbastanza faticosa. Allora, ecco qua, sempre la festa nazionale con altri ministri. Fra l'altro, poi, bisogna anche capire la realtà locale. E qui, ad esempio, la maggior parte delle foto sono tirate dall'ultima stellezza in Zanchia in Africa. Bisogna anche capire nel paese in cui ci si trova, come dire, abbastarsi e rispettare la modalità del paese. Allora, prima, per evitare i gaff, e poi per cercare di... Come dire, io so sempre che vediamo tutti i colleghi che la pensano così, soprattutto io mi parlo ai paesi europei, io so di un'idea che il diplomatico all'estero è ospite del paese in cui presta la servizio. Quindi, in ogni caso, deve sempre avere il massimo rispetto per il paese, evitare atteggiamenti, come dire, di supponenza, o appunto di salire in cattura quotidiana, dovreste fare questo, quello, quell'altro, insomma... Questo lo percepiscono. I locali, infatti, come dire, gli italiani, voglio dire questo, hanno una capacità di empatia sviluppata naturalmente e la facilità di relazione, insomma... Generalmente siamo apprezzati, circondati da simpatia proprio perché, per sua natura, l'italiano evita atteggiamenti appunto di supponenza o di superiorità. Allora, discorsi, infatti... Eccolo qua. Ci sono i conti. Questo, vabbè, per dare un'idea, questo è un dato contesto, questa è la sala conferenze internazionali della Farnesina, questo è un gruppo di libici che ancora al momento, questa è una foto che mi fa io gli anni fa, sono venuti a porti chiuse per cercare di trovare una qualche intesa, un qualche accorto per poter mettere fine, insomma, al caos della vita, perché c'erano quelli di Isulati, quelli del generale Aftaria, c'erano i rappresentanti di Tripoli e quindi, insomma, sono tutte iniziative, non si è risolto nulla di definitivo in questa occasione, ma è stato un mattoncino per far aumentare la confidenza reciproca tra i vari attori della scena politica. Ecco, parlando di cerimonie, questo è lo stadio di Lusaka, un frapparente scostruito dai cinesi con architettura discutibile. Ecco, questo era il funerale che non voglio, insomma, il funerale del presidente ricarica che è mancato in quegli anni. Ecco, lo stadio chiede, insomma, queste sono cerimonie a cui, come dire, in questi paesi sono abbastanza toccanti. Questa è stata una cerimonia alle nove di mattino, praticamente alle sei di sera, con il cambio infernale, e... Tocca a fare, abbiamo ricordato poi il straordinario giorno dopo. Eccolo qua. Ci sono poi una serie di attività, io nello specifico in Zambia e l'ho accreditato anche in altri due paesi, Malawi e Pozguana, paesi dove non abbiamo un'ambasciata, perché non abbiamo ambasciata in tutti i paesi del mondo, le ambasciate sono, se non ricordo, 120 circa, ci sono una sessantina di paesi in cui non abbiamo un ufficio, abbiamo un consul onorario, o comunque un ambasciatore di riferimento che non è il presidente di quei paesi, ma vernicamente va, appunto, per partecipare a cerimonie, per fare incontri. In questo caso, eravamo andati in Pozguana, il governo del Pozguana aveva organizzato, organizzato un incontro annuale con tutti i diplomatici israeliani, un incontro annuale molto, molto interessante, che poi era seguito nello specifico da una visita in un parco, in un parco del Pozguana, dove ci ha portato in questa area militare, insomma, un'esperienza, un'esperienza un po' di pozueta. Ecco qua. Qui, va bene, era un'intervista della televisione Zampiano. Ecco qua, ci si trova poi veramente a dover fare attività, insomma, non immaginata nemmeno. Muore il presidente Zampiano, vengono intette nuove elezioni presidenziali. su invito delle autorità locali, avevano invitato la comunità internazionale a fare delle squadre formali per monitorare, come dire, il processo elettorale, per mostrare, insomma, pur con le difficoltà logistiche che può avere un paese africano, comunque, cercavano di fare le cose in maniera corretta e in maniera trasparente. Hanno chiesto anche all'Italia, ovviamente, di mettere a disposizione questa piccola squadra elettorale che dicevamo io, due ragazze italiane che erano lì cooperanti in quel momento per un progetto di sviluppo e magari una dipendente della fascia. Fatto questo, come dire, comunicando i nominativi dall'autore carogali, la domenica in cui c'erano le elezioni, siamo andati in giro per il seggi di Musaca a camminare, a vedere come funzionavano le procedure elettorali. Questo qua era un seggio e devo dire, a me ne voleva un sforzo perché con difficoltà logistiche, organizzative, notevoli, hanno cercato veramente di fare del loro meglio. Ecco, devo dire che poi, insomma, da questo punto di vista l'Africa ha fatto veramente grandi passi in avanti. Insomma, anche il criterio gioco democratico sta piano piano mettendo radici. Considerate che fino a non molti anni fa in un paese africano, appunto, l'intercesso del Presidente avrebbe comportato uno sconfino dell'intervento dei militari, colpistato, no. Adesso, in realtà, insomma, nella maggior parte di tutti, ma nella maggior parte dei paesi, viene accettato la normale procedura democratica e, ecco, si va avanti con le elezioni. Questi sono incontri, infatti, sempre in giro per l'arte, nello specifico, questo paesino è un progetto di cooperazione dove eravamo andati con i colleghi tedesco e finlandese, l'incontro col Vescovo della città. insomma, incontri che spesso non hanno una diretta attinenza con quello che l'Italia sta facendo in quel paese, ma, come dicevo, servono per creare una rete di relazioni, capire il paese e quindi riuscire anche a dare un'interpretazione ai fatti che succedono in quel paese. Ecco, poi quando si fanno questi incontri, poi particolarmente il cloristico, perché non siamo in realtà spettacoli, per direttare il benvenuto Raios. Eccolo qua, quindi una prima parte fatta, appunto, di incontri istituzionali che è la parte, per così dire, un po' più ceremoniosa, un po' più corretto con l'aria. Negli ultimi anni, devo dire che operai in modo diplomatico, che veniamo all'interesse anche per voi, è crescente i compiti di promozione economica e anche culturale. La promozione culturale, insomma, l'Italia, ovviamente, ha delle possibilità, come dire, storiche che comunque vanno valorizzate, perché, insomma, anche la promozione culturale, in realtà, parliamo soprattutto all'estero di promozione della lingua italiana. L'Italia, insomma, un patrimonio culturale in Italia, dovrebbe essere, ci sono altri istituti che si occupano della promozione dell'Italia all'estero. E la promozione culturale per noi, per le ambasciate, consulate soprattutto la gestione della lingua, l'inserimento dell'italiano nelle scuole. Ma la promozione economica è sempre più, è sempre più importante. anni fa, quando, insomma, venne alla riparta per il scuole, insomma, arrivò anche la Fadesina con un approccio, come dire, con un picchio molto imprenditoriale e disse che anche il diplomatico doveva essere valutato in base a quanto export in Italia promuoveva nei paesi in cui resta a servizio. Ci fu ovviamente, insomma, reazioni un po' scandalizzate perché i miei colleghi dissero ah, ma come? Ma noi non siamo dei commissi viaggiatori il nostro lavoro è più alto. in realtà, anche se posti un termine un po' magari un po' bruttari, il concetto che l'ambasciata o il consulato italiano a testo sia lì anche per sostenere la presa italiana è, piano piano, ha fatto strada e si è, e si è, in qualche modo, consolidato. ci sono ancora delle nicchie di resistenza di colleghi che fanno fatica probabilmente anche per formazione e per formazione culturale ad avere, come dirlo, un approccio, una visione che contempli l'interesse delle imprese italiane nel paese. Però, diciamo, piano piano, anche per il grosso impulso del centro, della Faresina che organizza iniziative che coinvolgono le aziende italiane missioni di sistema. Ci sono state iniziative che vanno dalla cucina alla moda, al design, tutto per promuovere, come dire, il meglio che l'Italia offre. Quindi, ormai, questa è una consapevolezza che è maturata. E, naturalmente, cosa succede? Quando l'imprenditore italiano viene, chiede, come dire, manca, viene informazioni ma è appasciata o viene a fare una stessità, l'incontro con l'ambasciatore o con il console è importante per dare, come dire, un inquadramento su quello che è il paese, sulle prospettive e per offrire occasioni di incontro dell'imprenditore con le controparti locali. Poi, ovviamente, non è il diplomatico che vince gli appalti e conflute i contratti. Ma questo gli imprenditori non lo chiedono nemmeno. A loro basta avere, come dire, l'occasione di contatto oppure la chiave per aprire determinati posti che localmente può saltare benissimo il loro destiere. Io, agli imprenditori che si abbasciavano in Zambia, insomma, in questi ultimi anni, ho sempre raccomandato di considerare l'ambasciata al loro contributo a disposizione. Quindi, non solo che la mia persona per accompagnarmi magari a incontri istituzionali con le loro parti, in un paese dove ancora la presenza dell'ambasciatore dà ancora una garanzia divina. Come dire, è ritenuto un aspetto importante. Ecco, è la stessa cosa che in Europa, non succede più. insomma, difficilmente, a Parigi o a Perlino l'ambasciatore magari accompagna l'imprenditore e il Veneto che potrebbe trovare in Italia. Insomma, anche perché l'imprenditore non si rivolge nemmeno all'ambasciata per cercare di abitare il mercato europeo. Ma, come dire, i paesi invece più marginali, insomma, l'America oppure l'Africa stessa è ancora importante. io mettevo a disposizione ovviamente anche la residenza. La residenza non è un'area, è una residenza temaniale dello San Italiano e quindi invitao tutti quanti a voler, nel caso che se ho voluto viaggiare, a essere a completa disposizione a contare sull'appoggio dell'ambasciata. Ecco, l'appoggio economico. Questa è la diga di Cariba, nessuno lo saprà, ma questa è la 30 diga fatta alla fine degli anni 50, inizio anni 60, all'epoca era la diga che aveva formato l'ago artificiale più grande al mondo, poi era stata superata credo a una diga in Cina, forse anche da un anno in Brasile, se non va verrato, ed era stata costruita da un'impresa italiana, quindi all'epoca era a impresito imprecino, ora non ricordo il cambio problema. Intanto, io in Zambia ho scoperto che la maggior parte delle infrastrutture del paese erano state costruite da ditte italiane negli anni 60 e 70, cosa che non immaginavo assolutamente, tanto che ancora i zambiani e la gente normale e i ministri ricordavano, con nostalgia, l'epoca in cui le imprese italiane erano presenti in Zambia, perché come qualità delle infrastrutture in questo caso, come capacità di rapportarsi alle istanze e ai bisogni locali ero state, come dire, ero tuttora, solo tuttora apprezzate, tanto che io sono arrivato in Zambia in un momento in cui passata un po' l'ubriacatura cinese, chiamiamola così, lo Zambia come tanti altri paesi africani stanno cercando di recuperare un po' i rapporti con i vecchi partner del periodo coloniale, diciamo, nel nostro caso non era periodo coloniale perché i tanti Zambia non era presente, ma insomma ha capito che tutto sommato forse il rapporto con questi vecchi partner non era così perdente rispetto a un rapporto ora con un gigante come la Cina che per se stesso non perché i cinesi sono cattivi ma per questioni di dimensione è un rapporto che poi rischia di essere superato. Comunque, presenza italiana sparita nelle corse degli anni 80 praticamente l'Italia come dire si è ritirata dall'Africa probabilmente ha iniziato a puntare più sull'ansia e poi negli anni 90 sull'est Europa sta di fatto che anche perché l'Africa poi ha passato insomma pari decenni in cui è veramente dato come continente come continente perso comunque sulla base ecco qui un taglio del nastro non ricordo era una fiera dei macchinari della ricordatura non sono partecipato anche di imprese italiane in quello caso come era una fiera internazionale ero l'unico ambasciatore occidentale presente per cui il ministro mi affiaffò che facciamo l'Italia insieme perché anche lui ci chiedeva per l'appoggiare un ambasciatore che ovviamente non avevo merito nell'organizzazione della fiera ma insomma in questo caso ho mancato la presenza dell'Italia ecco qua qui vabbè voglio fare pubblicità quando vi dicevo questo è un attivo della residenza dell'ombasciatore d'Italia un giovane imprenditore che come dire ha proposto una presentazione in questo caso è un'esplomante per l'Italia aveva insomma intercettato la crescita dei consumi del paese per i problemi che sono i beni considerati i beni agitari insomma come cibo che vanno di pari basso con la crescita del potere d'acquisto di questi paesi di forte crescita e crescita del potere d'acquisto e anche acquisizione di stili di vita che diciamo così occidentali europeo appunto il consumo di prodotti di vita è importante questo connazionale che stava in Zambia lui aveva iniziato nel cielo di pochi anni con un'importazione di prodotti in un container ogni tre mesi con due tipi di pasta un tipo di olio dopo cinque anni noi ridicoli quantità di cose che portavano lì la grande distribuzione ad esempio in Zambia è dominata dalle terre commerciali sud africane che ovviamente tendono a proporre i loro prodotti però come dire questo imprenditore investandosi su una crescita una domanda di crescita per prodotti piano piano si è annaggato con un grande successo ecco qua ecco qua qui erano stati reclutate le varie persone per per la serata ecco una bella cosa qui dal primo anno in cui in Zambia la festa nazionale ha fatto anche una sfilata una sfilata di moda avevano mandato un archivicchio prestato non aveva organizzato nulla prestato la disponibilità ed era stata fatta una sfilata di moda con modelle come dire così assunte per l'organizzazione ma stavano modelle professioniste non solamente per le ragazze africane e comunque anche Cristo era servito a dare alla festa nazionale che è normalmente un'occasione abbastanza riuscita così un tocco di coloro un tocco di di eleganza che gli israelieri normalmente da noi italiani si aspettano ecco sempre la festa nazionale perché in questo caso era stata data l'opportunità a un gruppo di paterini italiani di sicurezza per rendere più animata la sedata per dare un riconoscimento a questi ragazzi che con una invece italiana facevano un peggio semplice dal punto di vista degli spettacoli ecco poi vari eventi questo evento full fair ecco qua anche qui tutta l'ambasciata moglie, figli, bambini tutti quanti per partecipare alla fiera all'usacca animale per offrire appunto piatti e specialità italiane ecco qua questo è un gelato di gelato di gelato italiana non faccio un nome perché non lo ricordo aperto due gelato di gelato ma veramente buono detto da italiani ovviamente per distruire poi i giovani africani a questa attività di gelato di gelato ovviamente di grandissimo successo ecco qua due clienti di somali in questo caso che facciavano fatto onore al gelato i loro genitori somali anche questi che partecipavano anche loro a questa fiera nel caso specifico poi insomma ovviamente avevano degustato le specialità italiane io per parte mia quindi avevo dovuto bere un bicchierone di latte di cammetta che facendo un segno della croce però insomma devo dire è veramente buona quindi ho scoperto che la somma che ha è il maggiore produttore ha dato la popolazione maggiore appunto di cammetto ed è conseguentemente anche il maggiore produttore di latte di cammetto se chi volesse lanciare un'attività magari qui in Italia non credo ci abbia pensato nessuno quindi ecco attività collegate sul piano istituzionale e sul piano della della promozione economica naturalmente ecco la soddisfazione di per l'ultimo paese in cui sono stato di riuscire a impegnarmi a vedere che piano piano stavano tornando le imprese chiedevano informazioni visitavano anche il paese per avere incontri per tastare il corso della situazione quindi sono contento che anche nel settore delle infrastrutture iniziava a rivedersi qualche qualche presenza qualche presenza italiana il secondo grosso capitolo come dire di attività di un abbasciato del consolato è quello di prestare assistenza agli italiani all'estero questa è la parte consolare spesso uno si chiede ma che differenza c'è tra l'ambasciato e consolato l'ambasciata sta nella capitale e cura i rapporti con i costi costituzionali consolato è può essere un ufficio assestante a volte anche in altre città che non siano la capitale dove c'è una forte presenza di italiani oppure può essere come dire un ufficio all'interno dell'ambasciata dove con presenza abbiamo solo l'ambasciata in Italia che all'estero formalmente sono oltre 5 milioni e vuol dire che i consolati i consulati all'estero devono offrire i servizi che appunto normalmente offre la città, quindi carte dei comuni, le costure e in alcuni casi le pretenture, l'emissione del passaporto, l'Europa, l'emissione delle carte di identità, gli altri notarini, il riconoscimento dei titoli di studio, insomma una quantità di attività per le burocratie che come dire sono competenza dei consulati. Il consulati poi devono intervenire in situazioni di emergenza, insomma avvenimenti in cui richiedono che l'ambasciato e il consulato si attivi immediatamente, ovviamente appunto sono fondazionali che hanno decisivi di giudiziare che finiscono negli guai, quando viene arrestato il fondazionale, le convenzioni internazionali prevedono che sia avvisata ovviamente la fasciata del paese di appartenenza, non sempre viene come dire in maniera così fluida e l'ambasciata si attiva, va a fare vista al consulato nazionale per come dire accettarsi che non subiscano trattamenti e soprattutto per far vedere anche come dire alle autorità locali che il consulato nazionale non è tanto male a se stesso ma in qualche modo è seguito dalle sue autorità diplomatiche e consulali. Ecco, come vedete, ho importato il numero dell'Argentina, il numero degli italiani, insomma di persone con passaporto italiano e di gran lunga in maggiore, questo ovviamente è dovuto al fatto che l'Argentina sia uno degli grandi paesi di emigrazione a partire dalla seconda metà dell'Ottocento e attenzione, questi 900.000 che poi ormai sono già tornati a quasi verso il milione, sono per la maggior parte italo-argentini, nel senso sono argentini che terza, quarta generazione a un certo punto hanno chiesto riconoscimento anche della cittadinanza italiana. Su 900.000 azzalto che di italiani, su pienamente italiani, sono passaporti italiani, quindi persone che sono trasferite da loro in Argentina saranno forse 150.000 non di meno, sono comunque la nostra legge che conosce la cittadinanza per sangue, che per linea paterna non ha limiti temporali, ci sono ricostruzioni di cittadinanza in cui una riva con l'atto di nascita del nonno, del paesino del Friuli oppure del paesino della campagna, spesso precedente addirittura l'unità d'Italia, quindi i certificati di nascita sono sempre delle parroglie e da lì ricostruendo l'albero genologico arrivano e chiedono la cittadinanza italiana. Allora ovviamente bisogna stare in un tempo molto delicato quello dell'assistenza all'estero, anche perché sono tutti i casi d'emergenza, spessissimo poi si lamentano, ci sono polemiche, dicono le autorità non si stanno interessando del caso, il mio figlio è arrestato, il mio marito è sequestrato. In realtà non è che noi, comunque essendo ospiti in un paese, non è che possiamo interferire con i procedimenti giudiziari di quel paese, possiamo in maniera esercitare di vicinanza al connazionale, ma ovviamente non possiamo interferire, non è che mandiamo l'affogato dell'ambasciata a sostenere queste persone, insomma siamo limitati spesso le persone dall'Italia magari non localizzano. Ecco, l'italiano all'estero, l'italiano all'estero è una presenza che, questo è il consiglio di un diploma dell'onoreficenza artificiale, è un italiano che stava da 40 anni in Zambia, anche lui è arrivato negli anni 60, in realtà, è affatto, come hai detto, un percorso imprenditoriale molto importante. Persone che peraltro poi sono sempre rimaste attaccate vicino a andare sul Consiglio degli italiani e quindi il compito dell'ambasciata è anche mantenere appunto una rete di contatti con tutti questi italiani che ci hanno fatto e ci fanno onore all'estero. Io senza falsa retorica, insomma, che gli incontri con gli italiani spesso di coloro che sono loro i veri ambasciatori d'Italia perché con il loro lavoro quotidiano fanno sì che la reputazione del nostro paese e quindi la reputazione anche del diplomatico che arriva lì sia, come dire, favorita dagli altri sacrifici che hanno fatto i nostri connazionali all'estero. Ecco qua, vi avrebbe detto che a Risarga c'è una scuola italiana, una scuola italiana che era stata appunto istituita negli anni 60, ha fatto la collettività degli imprenditori italiani, all'epoca si trasferivano anche quelle famiglie, avevano fatto questa piccola scuola. Nel prossimo anni in cui si è evoluta, adesso credo che abbiano un curriculum britannico e ovviamente gli studenti, insomma, sono po' di tutte le provenienze da tutto il mondo, italiani sono rimasti pochi, non di meno per la ceremonia di inizio, fine anno, questa era la ceremonia, la ceremonia di consigli del diploma e chiamano l'ambasciatori a Italia perché ci devono rimancare, come dire, le loro... anche qua, il sorseco, è uno dei posti di aggregazione che nessuno immaginerete, però era più frequentato della città, la città insomma non offre molti, molti emersivi, c'è l'italiano di Lusaka per lo sport e anche per gli incontri sociali era particolarmente animato, apprezzato tra gli zambiani e dalla comunità, e dalla comunità internazionale degli stati e altri. Ecco qua, c'era il domenio di calcio per i bambini delle scuole e della città, e qui c'era la squadra dei cittadini italiani che giocava con tutte le altre squadre organizzate, era un momento insomma in cui... Ecco, questo invece è consolato, ho queste attività che organizzano gli italiani, non sono organizzate da una fasciata, però il compito della fasciata in qualche modo è far sentire la vicinanza e l'apparezzamento per queste comunità, che poi nell'insieme fanno sì che l'Italia sia vista come, come dire, con una determinata luce, con una determinata ottica, proprio perché è anche presente nel Paese con tutte queste iniziative. In questo paio, in questo esempio, gli italiani che non assistiti c'è oltre alla rete diplomatica consulare, c'è una rete poi anche di uffici di consoli onorali, è diffusa sul territorio, sono generalmente con nazionali che risiedono in zone magari anche spettute di un Paese, che a titolo onorifico fanno, come dire, un'attività consolare per gli italiani della zona. Questa signora consulare un'orario, questo in Brasile, del Mato Grosso, aveva il suo ufficetto strapieno di foto dell'Italia, di santi padroni, eccetera, e comunque faceva un lavoro prezioso perché era in una località a tre ore da Brasilia, quattro ore da San Paolo, per cui tutto quello che riguardava l'Italia, questa zona spettuta del Mato Grosso, era un primo punto di riferimento molto utile per i connazionali. Io con l'Italia che avevo in Brasile anche tenevo la rete dei consoli onorali. Ecco, per noi capita di vedere come si trova, in questo è addirittura un paesino spreduto sul limitare proprio all'inizio della foresta amazzonica, la Baccheria Pasqualotta, ma che arriva Pasqualotto. E uno dice, accedete, ma cosa ci fa qua il signor Pasqualotto? Probabilmente era il nipote di signor Pasqualotto, arrivato nel 1920 a San Paolo, che poi se era, come dire, incamminato, salendo dell'immensità del Brasile, era finito questo posto spreduto ad aprire una tabaccheria, ora io non so, in specifico, se questo abbia conservato la cittadinanza italiana, ma tanto per dire, si trovano veramente poi con nazionali dei posti più intensabili. Ultimo step, poi chiudo velocemente, è l'attività del Biccià che ha essere anche l'operazione allo sviluppo. Allora, per gli ultimi anni, un po' la quota di fondi che l'Italia destina alla cooperazione, allo sviluppo, è, come dire, si è contrata. Ci sono sempre un po' le discussioni, i tempi, i tempi, i tempi, nei vari ambiti internazionali, i paesi, il sistema, il X per cento, il PIL. In realtà l'Italia si è dovuta poi concentrare su un numero prioritario di paesi. Poi, nello specifico, l'Etiopia è il paese che, per la cooperazione bilaterale, è quella che ancora riceve i maggiori finanziamenti d'altare. Poi c'è il Mozambico, i territori palestinesi e i libani. Ecco qua. La cooperazione allo sviluppo, ovviamente, può essere bilaterale, nel senso, dal paese a quel paese, oppure può essere fatta attraverso gli organismi internazionali. l'Italia, ovviamente, persa le quote, all'Unione Europea, alla FAO, alle Nazioni Unite, partecipa con proprie fonti agologali che poi queste organizzazioni svolgono in giro per il mondo. Anche lì poi, insomma, c'è sempre un po' una polemica. La cooperazione bilaterale è vista un po', come dire, come un modo per entrare nei paesi stranieri. Spesso la cooperazione bilaterale è vincolata nel senso che il paese dice io ti do x milioni di dollari, tu però compri i macchinari dal mio paese, ecco, eccetera. Quindi è una forma un po' per entrare in maniera assurda da nei paesi. Non è necessariamente poi negativa, perché poi, in realtà, anche il concetto di cooperazione allo sviluppo è molto cambiato. in piano, la cooperazione di emergenza ormai è limitata a casi veramente ridotte. Insomma, quando ci sono emergenze umanitarie, allora arrivano i sacchi di risole dente, penso che, non so, la Fuga, il Sudan, le crisi di questo genere. In realtà, in condizioni normali, la cooperazione è sempre meno un dono e un aiuto, ma sempre più un tentativo, invece, di partecipazione congiunta ad attività produttive. Ed è quello che poi chiedono i paesi in via di sviluppo e che chiedono i partner internazionali. Io ricordo appunto quando ero in Zambia, feci una presentazione qui a Parma, all'Unione industriale, proprio perché la facciata zambiana a Roma ci teneva particolarmente a creare dei contatti con la realtà, nel caso specifico di Parma, perché nell'impiantistica alimentare questa è una zona ovviamente molto forte. Lo Zambia, che dipende quasi per una larga percentuale sull'esplodazione del metallo e del rame, nel tentativo di diversificare la propria economia, avrebbe individuato correttamente l'agricoltura come un settore da sviluppare. E l'agricoltura come un settore da sviluppare non per esportare, diciamo, materia prima di grano, cotone grezzo, oppure pomodoro, ma per fare delle lavorazioni e dare valore aggiunto ai prodotti. L'assurdo è che in questi paesi, come dicevo prima, le catene commerciali sudafricane, che sono molto organizzate, insomma, ai forti, succede che spesso comprono prodotti alimentari dai paesi vicini, da Mozambico, dallo Zimbabwe e dallo Zambia, li trasformano e poi impacchettano e li vendono i supermercati in Zambia. Ovviamente voi siete tutti studenti in economia, capite che per il paese che appunto coltiva il pomodoro ma non fa nessuna lavorazione, nella catena puoi vedere se tornare appunto il pomodoro è pacchettato in Sudafrica, eccetera, capire che valore aggiunto non rimane nel paese. Quindi la cooperazione è sempre più una cooperazione che viene fatta per, come dire, partecipare al ciclo produttivo. L'importanza anche della cooperazione del terzo settore, intanto la cooperazione non è solo nazionale, ma c'è anche una quantità di UNG italiane e anche di imprese, di grandi società, di grandi gruppi che della responsabilità sociale ormai hanno fatto un concetto acquisito, per cui, come dire, di grandi gruppi, adesso non faccio nome, tendono già una parte di risorse a sviluppare, come dire, la società economica, il lavoro nei paesi che magari sono ospitali. si è capito che, insomma, quindi anche il benessere delle popolazioni del paese, la ricchezza del paese in cui si opera appena affidatore anche come vantaggio, poi, e per la stessa impresa. ecco, infatti, ho messo la cooperazione e sta dotando sempre più un approccio di coinvolgimento del settore privato, sia da parte delle istituzioni pubbliche che da parte dei gruppi italiani. Allora, ecco qua, cooperazione allo sviluppo, questa è la presentazione di un'iniziativa di benedicenza di un italiano che ha pensato bene di andare in bicicletta da Musaca a Londra, prendendo l'aereo al cambio fino in Italia, il mare da lato sulle acque, però si è fatto tutta l'Africa e poi tutta l'Europa in bicicletta, con una bicicletta il cui telario era in bambù, fatta da dei ragazzi nigeriani e sudafricani, una bicicletta di bambù, non pensavo a una cosa, era di livello tecnologico eccellente, che infatti usava anche una quantità di soldi, ha fatto poi un libro su questa sua traversata di 3.000-4.000 km, quanto è, questa è la presentazione, la partenza del villaggio dove aveva sé il programma di questa OMG italiana, con tutto il villaggio presente, le persone animali e l'elemento, ecco, ma questa è la partenza, i primi filometri fatti assieme, dopo di che questo ragazzo era andato e ha traduzionato, ha fatto tutti i paesi fino a 10 per accogliere appunto fondi per questa iniziativa. Ecco qua, questo è un altro progetto, sempre figurando in OMG italiana, in questo caso era una scuola in sostanza rivisto, dove ci sono le cascate vittoriche, che è una zona turistica e quindi c'è questa specie di scuola perviera dove gli studenti imparano a fare lavori anche manuali. Ecco qua, queste le aule, visita le aule dove c'erano questi corsi alberghieri. Ecco qua, questa è un'altra scuola, questa scuola sia amicissima, è stata finanziata da un gruppo di amici, un gruppo di amici, Romagnoli, di Emilio Riccione, non ricordo, e uno di questi, facendo un viaggio in Africa, era abitato in questo villaggio verso la Namia e aveva visto appunto, c'erano gli studenti che facevano le scuole all'aperto sotto una punta. Insomma, ha preso contatti, è tornato in Italia, con varie iniziative, hanno raccorto una somma, un sommato per una testa e hanno costruito, tipo, per fatto questa scuola per mettere un tetto sopra la testa degli iscritti. Naturalmente l'ampasciata non c'entrava nulla in tutto questo, però io sono andato a partecipare in cerimonia, il signore con la mano bianca e il signore Romagnolo, che fattore, la signora era il, insomma, l'addetto della pubblica istruzione e della cerimonia, anche lì il discorso prima del libro di Donore. Ecco, questa è un'altra, un'altra iniziativa, anche il nord di Donizzania verso il conto. Anche qui, sempre nelle città e privata, fanno iniziative bellissime, apprezzatissime, qui ripeto, l'ampasciata non può fare altro che, come dire, apprezzare, valorizzare, e quando è chiesto, come dire, a fare presente, in questo caso, una segna di diplomi per la fine di una corsa. Quindi il Totti Zampiano ha superato un successo il corso. Ecco qua. No, tutti i diplomati del corso. Ecco, un altro spettacolo, il signore Favarca, un missionario proprio, anche lui, nella periferia giustata, come dire, faceva, ha una scuola, e una scuola che comprende una componente teraterale, questo era l'escrizione ancora della scuola, e anche lì, l'ambasciatore va e si gode a quello spettacolo dei ragazzini che ballano e cantano. Ecco, l'ultima foto. Allora, questa foto è stata fatta e scattata in una cittadina a confine tra lo Zimbabwe e lo Mozambico, mentre stavamo facendo benzina al benzinaio. Allora, al di là di quelli che sono i compiti del diplomatico, istituzionale, produzione economica, cooperazione allo sviluppo, assistenza agli italiani. Tutti questi compiti è importante che il diplomatico vi affronti con mente aperte e soprattutto con la curiosità, cercando anche di non seguire, come dire, schemi prestabiliti. il fatto poi di girare per il mondo fa sì che comunque uno acquisisca anche l'abitudine a cercare di avere punti di vista e ottiche diverse. È un lavoro ovviamente molto interessante se fatto con la giusta curiosità, con l'interesse per le cose, per conoscere cose diverse e quindi cercare di arricchirsi anche perché chiaramente poi è un arricchimento, insomma aver girato vari paesi, varie realtà, poi permette poi di avere una visione delle cose molto più articolata. Ecco, quindi questo vuole essere una foto emblematica per dire di non fermarsi all'altanenza, di chiedersi sempre ma cosa ci può essere. Questa signora cammina per la strada e si porta il suo trolley sulla testa. Allora, il primo momento del piano, quando il padre Depp, siamo a l'epoca che il storico è possibile e non sa neanche questo dell'arcota. E invece poi può occuparsi anche tante altre domande, perché magari la signora lo porta perché le rotelle sono scassate o perché in quella cittadina i marciapiedi sono talmente sconnessi per cui alla fine non riesce a trascinare il codi, il trolley, oppure perché per avere le mani diverse quando incontra il conoscente della città per dare le mani perché in Africa spesso si danno le due mani. Non lo sappiamo. Questo è solo per dare un piccolo esempio di come, insomma, devono essere un po' affrontate le esperienze che uno fa all'estero in contesti diversi. quindi con curiosità, con positività e con fotti da risultati. Allora, questa è una carrellata, insomma, non voglio dire un grande troppo, è una carrellata un pochino su quello che fa il diplomatico all'estero. Io ora non lo so se vi interessa velocemente sapere quale sono... Ah, ecco, quello che dico ovviamente io parlo per la materia delle mani italiane. Naturalmente gli stessi concetti valgono, per chi mai potesse fare una carriera nell'ambito della Commissione Europea oppure nell'ambito, ad esempio, delle Nazioni Unite. La Commissione Europea, il sistema della Commissione Europea, ormai è, come dire, è difuso in tutto il mondo. Quindi ci sono i masciani dell'Unione Europea dappertutto, compresa le sperimentate isole negli Pacifico, i funzionali ormai sono, a metà provengono dai servizi informatici nazionali e per l'età sono membri della Commissione Europea. E poi anche c'è tutto il vasto mondo delle Nazioni Unite e delle sue agenzie. Anche loro hanno difficili presenze in tutto il mondo e ovviamente, diciamo, sono ovviamente agenzie economiche o agenzie, non so, con modelli dei rifugiati o dello sviluppo e comunque offrono una possibilità di carriera in giro per l'Irland in settori sempre diversi e assolutamente interessanti. Va bene, io non so se volete sapere un po' come si accede o se no lascio alla professore Santigliani un po' Allora, per accedere alla classe diplomatica c'è un concorso che bisogna essere ovviamente cittadini italiani l'età non è superiore ai 35 anni. C'è una serie di lauree che non consentono di fare il concorso ovviamente sono lauree che hanno a che fare per la comunità diplomatica ecco, non c'è medicina e non c'è nemmeno, non so, ingegneria credo, non se non voglio, non voglio... Ecco, la maggior parte poi dei diplomatici e delle carriera comunque provengono da forze cose, da scienze politiche. Ovviamente in Italia succede che poi, soprattutto anche come provenienza geografica Roma è stata padroni, diciamo che poi allontanandosi dal palazzo della Faresina diminuisce il numero di diplomatici che pentano il concorso dopo Roma c'è una forte transizione a Napoli c'è una forte transizione siciliana si tende un po' andando verso il nord Italia ancora Firenze e qualcosina, insomma già Torino e Milano sono veramente pochi i diplomatici che provengono da quell'area generale allora il concorso viene fatto ancora una prova tipinale con dei test dei quiz c'è una valutazione, ovviamente, dei titoli e poi con la delle salle scritte orari ci sono cinque scritte sostanzialmente sono economia, diritto, internazionale, storia e due ditte devo dire che spesso il tema di economia è quello che va più selezionale anche perchè la un'area di scienze politiche si, l'economia ovviamente è un affanno però per esempio nella mia esperienza io quando avevo fatto l'esame il tema di economia è falsamente facile perchè sembra un tema, come dire tutto sommato, di cronaca all'epoca mia è un tema che era sui parametri di Maastricht allora nel cammino verso l'Unione Unica dell'Unione Monetaria quindi c'erano i parametri di Maastricht era il deficit e il tasso di interesse non mi ricordo allora, all'epoca tutti imparavano, sapevano cosa fossero i parametri di Maastricht ma fanno il tema per saper spiegare come le variabili economiche interagiscono tra di loro il tasso interesse, l'inflazione, l'occupazione, il deficit lo studente di economia, diciamo, ha fantaggiato perchè sicuramente riuscirà a descrivere i termini più corretti rispetto ai colleghi di scienze politiche oppure di giugni spagnoli allora, poi ci sono le prove di lingua oggi la lingua obbligatoria è solo l'inglese c'è una seconda lingua certa tra francese, spagnolo e tedesco e la prova di lingua è semplicemente una prova di conoscenza linguistica che va su un tema, così, carattere, generale e costruite quindi, mi sanno scrivere e fanno solamente per contestare le capacità di inglese ecco qua l'orale è, così come ho detto, scritto più in varie altre discipline in un'unità del settore più o meno dell'economia, del diritto e della politica il luogo di lavoro che si lavora a Roma al Ministero degli Esti 123 fasciate, 80 consolati 8 rappresentanze per l'anno presso le Nazioni Unite presso l'Unione Europea presso la Nato e via e via ecco quanti siamo? il Ministro degli Esti siamo quasi 4.000 persone tra i diplomatici siamo poco più di 900 e il resto del personale amministrativo poi sono circa 3.000 di questi 4.600 sono in servizio all'estero mille estero sono in servizio a Roma i diplomatici sono presso poco metà in servizio all'estero e metà in servizio all'estero ormai circa per la metà è composto da personale che viene assunto e sono circa se mi era sincero c'è il 57% di doni 43% di doni quindi il Ministero delle Queste con il personale ha dato molto oltre come dire la parità ecco qua io ho finito ma spero che avrete dato ecco questo è non lo so nel mio concorso nel 1946 siamo liberati in 23 erano 11 12 quindi vent'anni fa c'era quasi la parità nei ultimi concorso le donne sono tornate quasi non lo so io credo che allora agli esami quindi sia al testo attitudinale che alle prove scritte non c'è una grossa differenza tra i partecipanti uomini e i doni per esempio sono un po' uguale io credo che non lo so qual è il motivo per cui forse le donne per una carriera insomma è ancora un po' difficile spesso per le donne per varie ragioni probabilmente affrontano un concorso non come dire con una motivazione un po' più incerta ecco questo probabilmente fa sì che alla fine i risultati hanno ancora una maggioranza di uomini rispetto alle donne però effetti è una cosa abbastanza c'è ovviamente la percentuale delle donne molto molto preparate per una carriera e anche i massimi della carriera ambasciatrici ambasciatori di Franco con ruoli molto molto importante però ecco vedo l'ultimo assicura e vedo il secondo domanda per quanto riguarda un uomini rimosco per quanto riguarda una carriera domanda si deve rimanere una soltavia altre situazioni ma è anche un uomo che si per alcuni pensi questo può essere ancora bene in realtà la stragrande maggioranza dei contesti in realtà come dire le donne insomma sono veramente capaci e hanno anche una parcia in più quindi la barriera del fatto che come dire siano prese meno certamente in considerazione riguarda mai un numero veramente distretto in realtà non voglio legare che in alcuni paesi ci siano ancora un po' di efficienze però è accinata nel trovare un percento del paese non c'è un aspetto di questo tipo che in qualche modo penalizza le donne non c'è se uno guarda il numero di capi di Stato non mi parlano dei ministri che in Italia devono sapere per niente ma da te in attimo ci sono qui ecco per fare un esempio in Pozzania ma in Pozzuano anche nel paese molto marginale per esempio ah vedete un grado di scritto su questi aspetti anche lì sicuramente l'ambità una percentuale molto importante per chi mi disse del governo e come diceva la professoressa a volte in comitato magari un po' un po' un po' un po' un po' un po' è superato no, servizi no, come spesso succede dobbiamo arrangiarci dal primo all'ultimo aspetto della vita all'estero si, si porta la famiglia normalmente a meno che non si tratti in paesi dove non è consigliabile portare la famiglia in questo momento un aspetto della vita del diplomatico ovviamente allora io vado e lavoro in una fasciata per me la motivazione è già in situazione il fatto che lavoro faccio faccio la mia attività per la famiglia è spesso un sacrificio perché è per una moglie, un marito e i figli dover andare in presa di amico iniziando da zero ovviamente i figli ogni qualche anno cambiano e vogliono salutare gli amici e andarsene è veramente insomma abbastanza abbastanza cura per loro c'è da dire che poi ecco infatti anche lì i figli dei diplomaci poi c'è chi fa tesoro di questa esperienza perché parla di lingua e conoscere attraverso quindi c'è una persona con la mente aperta e ci sono altre persone invece che subiscono in maniera interattiva questo tipo di vita che alla fine spesso risultano magari senza punti di riferimento e si perdono o perdono le radici in Italia e si perdono nel vasto mondo e quindi insomma perdono un po' degli spiagati però nella maggior parte dei casi insomma se la famiglia è insomma poesa da i giusti codici insomma la dire positivamente questa esperienza l'estero è un fattore infatto positivo c'è da dire che insomma l'aspetto interessante perlomeno a me che sono insufficiente è che questo lavoro un bello brutto che sia dopo un certo punto di tempo si volta a pagina e si è iniziata l'esperienza e quindi non solo non si fa mai la stessa cosa a Roma ma poi c'è anche i figli ma sempre si specializza in un settore e sempre quello non si va negli stessi contesti nelle stesse realtà è interessante uno può andare a New York alle Nazioni Unite come può andare nel paese africano o a fare il console in Argentina ognuna di queste esperienze è molto diversa diversa dall'altra e in qualche modo arricchisce noi nel posto ne siamo stati insomma si sono sempre trovati bellissimo e quando si è trattato di portare la pagina l'abbiamo voltata è un po' di nostalgia insomma anche cosa con tanta riconoscenza un po' di domenica vero si io vorrei che state a laurearsi quali sono i primi passi concreti anche verso questa carriera per esempio se hai l'esame in questo corso cosa possiamo fare anche in tutti i giorni vetture se esattamente no ovviamente ovviamente oltre essere preparati nelle materie che poi formano oggetto d'esame è interessante è un po' interessante coltivare l'interesse per i fatti internazionali comunque cercare di leggere le riviste le riviste che si occupano di geofilica per le riviste nazionali ci sono tante c'è l'Invest c'è la Sonegna e ce ne sono varie per iniziare proprio ad acquisire un po' un interesse sui fatti del mondo per cercare di vedere anche diverse informazioni non limitarsi a leggere un giornale qualsiasi tendenza sia a leggere un solo giornale è limitabile cercare di aprirsi un po' a varie prospettive leggere e ovviamente sicuramente coltivare le lingue per quanto riguarda quella preparazione specificabile ci sono dei corsi che proprio preparano l'esame della carriera diplomatica e c'è la Sioi c'è l'anno a provincia degli esterni che sono ormai tante che organizzano corsi specifici in un anno per la carriera io ad esempio non ho fatto il suo professionale economia commercio ho studiato l'esame da solo e con un pizio di forza soprattutto l'esame e la fattore sicuramente questi corsi aiutano perché uno vede più o meno i temi di esame su cosa riguarda ci sono spesso professori di ottimo livello nelle varie materie e di esame insomma vengono fatte delle prove delle simulazioni e sicuramente non mi hanno un aiuto per poter ascoltare voi l'esame però la leggura che si fa è per leggere ogni tanto i libri di storia non voglio fare complicità però per lì il tema di storia è stato salvato da un ambasciatore romano che fa i libri di storia scritti in maniera molto anche molto competente ma anche accessibili a tutti è capitato un tema di storia sull'ottocento che è chiaramente l'arabente dice meno male che ho letto un libro di Sergio Romano appunto sulla secondo sull'ottocento sono riuscito a fare il tema e a farlo anche bene nel libro del testo per preparare nessuno di altri leggere detto Sergio Romano insomma uno di più di più di più consiglio di bagnari con tutto l'esco tutto delle leggi di leggere i libri di chissinge insomma grandi della titolazia sicuramente danno un'analisi dei batti molto interessanti poi muocare prego sì sì no succede cioè evidente noi nel senso l'Italia può avere un'ambasciata di un paese ma quel paese non avere l'ambasciabilità sì questo succede regolamente ogni paese è quello di decidere quante ambasciata aprire per il mondo non tutti i paesi hanno ovviamente paesi piccoli che fanno fatica ad aprire un'ambasciata in tutto il mondo quindi spesso anche loro c'è un paese l'ambasciata per l'ambasciata l'ambasciata è un paese Roma in Sede e forse lì in Paz tutti gli altri paesi europei sono occupati da una di queste tre ambasciate che è l'apertura dell'ambasciata ovviamente è un segno di intensificazione di rapporti di un'unità di un'unità di un'unità di un'unità erano sicuramente più forti rispetto a quelle con Malawi o Botswana dove andavano due o tre volte all'anno ma non ci pudevano per cui insomma nella vita di tutti i giorni era la vita di tutti i giorni questo è similissimo una particolarità poi anche di Roma giusto per darvi un'altra infrenatura a Roma ci sono poi ambasciate presso lo Stato Italiano presso la Santa Sede l'Avicano e presso la Fata che è un'agenzia della Nazione Unita che ha Sede la Roma e quindi ci sono ambasciate allora ci sono paesi che hanno addirittura tre ambasciate paesi più grossi altri magari ce n'hanno una quella per l'Italia che è accreditata anche alla Faro giusto una curiosità la cosa che non succede mai è che l'ambasciata sia contemporaneamente accreditata al Cominario cioè l'Italia e alla Santa Sede il Vaticano per comprensibilmente non ha mai accettato questa situazione mi succede che un paese che ha l'ambasciata a Roma presso Puglinante non ha l'ambasciata presso Vaticano l'ambasciatore che potre come dire il Vaticano magari è un ambasciatore a Parigi oppure a Viena oppure a Viena o da quattra parte ma non ha ex-on-mation un po' di legge questi sono ripetendoci un po' nella storia e anche con pensi che si riesce a capire vai prego a Viena a Viena a Viena a Viena a Viena lei cosa pensa sia anche l'imunicazione una persona che parla può fare a che in quale situazione a Viena e a Allora, una persona legge la curiosità nel senso di non fermarsi mai a un aspetto delle cose, come non fermarsi mai al titolo del giornale, ma fare almeno fatica di leggere l'articolo oppure di leggere articoli anche fatti da... Questo, apprezzandoci ovviamente, caratteriale aiuta anche a essere un bravo diplomatico. Quindi il diplomatico, per quanto sia stato bravo, non è detto che chi ha buone valutazioni nell'esame poi lungo la carriera sia quello che ha i maggiori successi. L'importante è anche una capacità caratteriale, la capacità di interagire con le persone. È molto più ricco il lavoro del bibliopatico rispetto a cinque temi. Si non lo può sapere, è a memoria, è il diritto internazionale. È un manuale di 300 pagine e se lo studia dalla prima all'ultima virgola e fa un bel tema. Però, altra cosa è sapere il diritto internazionale o le leggi economiche. L'altra cosa è utilizzare questa preparazione e calarla nella realtà. Cioè è molto più importante capire la realtà in cui uno ha a che fare, che non la nozione di base. Quindi il fatto di viaggiare, di capire, di fruire come è la cultura di un paese, questo è importante anche per lo studente di economia, per le aziende. Gli approcci che hanno le aziende, ecco, di dire che i mercati esteri, non possono, in solito, non tenere conto delle diversità di vari paesi. Quindi come è vero il cambio economico, a maggior ragione è vero anche per un'attività, e, ecco, tante sfaccettature come quella diplomatica. Ecco, quindi direi che oltre alla preparazione sostanziale di base, poi la differenza la fa, la capacità di riuscire a leggere le cose e a dare un'interpretazione. Diciamo, la quantità di notizie che ci è con la novia, uno vai su internet e trova tutto e con il grado di tutto. Allora, in questo mare di informazioni, sviluppare una sensibilità e per capire intanto quali sono le informazioni interessanti e collocare queste informazioni, come dire, in una costruzione mentale che poi dia un senso alle alle notizie. Questo vale per tutti i lavori che presuppongono un'analisi, sia economica o che sia politica, anche i dati economici. I dati economici, se sono astrati, devono per forza essere relazionati a una realtà di un paese, di una fase di sviluppo di quel paese, quindi non possono essere come dire solo paese, non sono assurdi, solamente il primo passettino per voi, per sapersi una visione di insieme. Volevo sapere, puoi informarci se avete avuto un capitolo sul dove andare, quanto stare, oppure riprendere le risposte? No, no, diciamo che per certi aspetti la carrile diplomatica ha subito un po' la carriera militare, detto che comunque c'è una bibliografia, i gradi, eccetera, comunque, la società, la società, la sostituzione, la patria, però no, però non siamo digitali, e poi confermando il governo cresce, il localista, i posti, e tali copri al destino, il diplomatico fa una domanda di assinazioni, cercando un certo punto di preferenza, quanto, cinque, quante le vuole, e quel ministero cerca più o meno di accontentare, seguendo ovviamente, di cercare di accontentare tutte le domande, non si viene mandati nel posto in cui non hanno fatto mandato andare. E' che poi anche riesce a riprodurre a riuscire, non so, nessuno può andare nel paese X, ritiene un collega della direzione del personale e convince che tu sei la personale di questo paese, che il ministero punta su di te e per cui questo, come dire il teatro, che non si danno in carriera, come dire, non ti convinci e chiedi di andare nel paese, come dire il tuo, che non mi vale, ecco, anche qui si vede, insomma, un po' diplomatico, che va a dire, sì, è che il diplomatico è quello che ti manda quel paese e comunque di dove andarci. Quindi, però no, diciamo, siamo, la domanda a chi ne fa, perché quando riguarda la permanenza ci sono di più interi, normalmente in paesi normali così in tre, quattro anni, quattro anni è il termine massimo, in paesi più, per disagiare la tua vita, c'è una situazione di guerra, insomma, anche alistan, situazioni di subito, periodo minimo è il tuo anno. Dopodiché, periodo massimo è quattro anni, e questo è un termine che viene adottato più in diplomazie, anche, come dicevo, per evitare che uno, noi, certo, dopo quattro anni conosci molto bene il paese, a contatto, eccetera, però, se uno stesse troppo a lungo in un paese da destra, poi dopo un po' diventa ambasciatore di quel paese, non più di l'Italia, perde un contatto con la realtà, si muove benissimo in quel paese, ma, appunto, perde la visione, la visione, per dire, l'ottica italiana, che è la grandana, in un paese che non fa bene il paese. Allora, il ritorno a Roma minimo è due anni, sono due sedi da quattro anni, insomma, otto anni non si trova mai, sono sempre sedi, perché poi, due mesi più, semestre più, semestre meno, e poi, il ritorno a Roma è almeno due anni, di solito, quel periodo romano è affiduto, a meno che uno, per le situazioni sue, e non voglio partire immediatamente, per l'estero, fa domande, per i posti, dove non si è presso la gesta, e sono posti dove, dove uno, a terra, a starmi, a dispensare, e viene mandato, e viene rimandato, rimandato, portare i piatti, se vedi, non fa nessuno, però, è un'attività, c'è un'attività, perché io, sono rientrato da Luzardo, nell'estate del 2015, saranno tre anni ad agosto, l'anno prossimo, sicuro? Allora, questa è una bella domanda, allora, io adesso, ma adesso, non so che subito, al ministero, sto a rispetto, 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 tra le varie cose, della sicurezza, delle nostre fasciate, del nostro ufficio all'estero, e del personale, che fa da sé che, il contesto internazionale, di sicurezza, diciamo così, è molto fluido, proprio in questi ultimi, tre, quattro anni, abbiamo dovuto rivedere, le nostre politiche, di sicurezza all'estero, perché, i posti che, fino a molti anni fa, che, rivederà assolutamente, sicuri, e, dire, non è sposta, ad alcuni rischio, e, oggi, non è una sola, per l'unità, per la sicurezza, oltre alla sicurezza, con dire, che, se, in uffici, per i tipi, per i muri, per i miei, per i carni, per i quali, ad i valdiagli, eccetera, eccetera, rispetturato, il ministero, tanti istituzioni, interpersonali, e, previsto, che, io, a fasciatore, o consul, che, di una situazione internazionale su quelle che sono le misure di sicurezza delle opzioni da portare all'estero e comunque la prudenza è mantenere un atteggiamento di basso profilo viene raccomandato a tutti i quali spesso e soprattutto i più giovani fanno uso molto disinvolto delle medie sociali per cui ah, domenica andiamo a mano a mano a mano a mano a mano a mano eccetera questo è un atteggiamento per uno che sta all'estero è un'esercizio cosa ma si sa che in affidata per un'altra informazione all'esterno anche perché ovvio come dire c'è l'abbasciatore che è uno ma comunque il personale è un'abbasciata nell'ottica dell'ordizia è lo stesso uno che è più che è come dire premiato la logica dell'ordizia quindi noi cerchiamo di controllare molto le nostre abbasciate insomma dopo lei non più abbiamo avuto l'episodio che è stata una bomba di caio però insomma tutto sommato non l'abbiamo subito però certi danni a cui anche lì basta sapere perché le abbasciate naturalmente sono protette anche le autorità locali assiste le condizioni naturali del governo di protezione però poi ci sono i cosiddetti soft target perché noi qui abbiamo l'istituto di cultura il consul orario l'istituto di cultura è un ufficio italiano che però non mantiene l'italiano ma con spettacoli mostre è un ufficio che per sé è a pevola pubblico anche è difficile trovare per la esigenza di sicurezza e la possibilità delissi tutto quindi insomma questo ha toccato un casco particolarmente attuale la pubblica 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 quando non è abito ma ci sono la pubblica la pubblica potere in che senso nel senso quanto può avere il cittadino la pubblica la pubblica la pubblica la pubblica beh no su questo aspetto allora ovviamente l'ambasciatore ha il diritto dovere di riferire al suo mistero le proprie a grande con su quella e io devo dire che qualche volta l'inizio dei diplomatici è di tutorare un po' di informazioni cioè mandare messaggi a Roma scrivendo quelle che secondo lui si riferò ma si aspetta che mi sa di dire no è quello di dare un quadro di situazione realistico dopodiché però con questi elementi poi può il primo tre può prendere giustamente la domanda una formazione di tutto il mondo e quello cambia un contesto più alto e quindi può fare l'uso che vuole delle informazioni che arrivano da la maschina in realtà verso invece le autorità locali non è che possiamo prendere le licenziative nel senso che ho vato dal presentare da un ministro locali e dico va bene mi diamo le vostre studi oppure adesso mi finanziamo la strada ovviamente mi mando istruzioni di Roma e il ministro mi dice vai che presenta quello che vogliamo fare per esempio il caso di un'ottima di scolazione rinnovato e per esempio ovviamente poi il potere il potere si vede dalle occasioni che la persona di incontro sa sa vedere per esempio nelle ultimissime settimane in Italia avevo accompagnato un imprenditore italiano mi ricordo il settore dal ministro dell'infrastruttura alla fine dell'incontro il ministro dell'infrastruttura diceva facciatore noi insomma vorremmo investire molto sulle energie rimovabili però siamo in Italia chiusa molto forti nel settore quindi mi fa avere un collegamento ma certamente l'Italia è un settore in cui siamo molto abbalzati mi faccia come dire una piccola letterina e assolutamente informazionale diciamo lo stesso come cosa abbastanza inconsueta ma arriva la lettera che si diceva un'infrastruttura italiana che ho raccidato a un collega che nello specifico collega che lavorava come consigliere diplomatico in una società in una società italiana a Roma Enel un fallone su cui vi dirò anche e l'anno scorso sono andati avanti i contatti nel caso specifico Enel si è abitato immediatamente che ha una filiale che ha una filiale ha detto al loro funzionario fai in zambia se ti un po' c'è che lo capire meglio da qui se abbiamo contatto e ha discorso detto che Enel Green Power ha detto l'appalto per un impianto fotocontrato e poi usare insomma anche per dire un altro dato spunto di un buono proteggere in questo caso ha la possibilità e l'occasione di prenderle e di usarle e di usarle in fondo ho fatto l'esempio di Enel perché ecco i consiglieri diplomatici o meglio quando si lavora in Italia c'è anche la possibilità di essere distaccati all'esterno della farmizia per cui un diplomatico può essere distaccato oppresso un altro ministero perché comunque i ministeri italiani il ministero l'ambiente tutti quanti hanno comunque un po' internazionale che un diplomatico riesce a entrare con una certa competenza ma ci sono anche imprese e gruppi per cui sono quelli da partecipazione anche sanale che per valore natura per la loro proiezione estera chiedono si accordano con la farmese come funzionario diplomatico per fare questo servizio presso io per fare qualche esempio c'è oltre a collega che sta all'emiglia e diciamo per il consigliere diplomatico anche a Leonardo Leonardo per la natura del commercio che va per la proiezione esterna che ha contatti promozionali dutevoli e a Lenin il funzionario diplomatico mentre a Chinelli è anche la Dizio ha una proiezione internazionale notevolissima c'era un po' deve restare da un'inghiera e non so come era altro ma poi e questo deve dire che poi ci sono occasioni ci sono consiglieri diplomatici anche per certe regioni in certe città Firenze secondo il consigliere diplomatico c'è stato un consigliere diplomatico distaccato che hanno pagato a Expo a Milano qui è andato più di uno adesso è una piccola squadra di diplomatici a lavorare in comune la regione di Milano e questo grande evento quindi insomma è una carriera che offre veramente tanti scocchi tutti articolati e interessanti bene grazie 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 grazie